La Toscana torna nella zona di rischio covid rossa a partire da lunedì 29 marzo e ci resterà fino al 6 aprile. Lo ha annunciato il presidente della regione Eugenio Gianni alla luce degli ultimissimi dati sull'andamento dell'epidemia, quelli relativi al 25 marzo, che hanno portato l'incidenza settimanale del contagio a 251 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, superando la soglia massima di 250. Nell'approfondimento che abbiamo fatto, rivedendo le schede, vi è la scheda di un laboratorio, un laboratorio di Prato, che arriva non nella mattina quando tutti i referti devono arrivare, ma arriva ieri pomeriggio in regione e arrivando ieri pomeriggio non è computato sui dati mandati a Roma. Quando stamattina ce ne siamo accorti perché il dato di Prato con queste circa 100 dosi di contagio in più apparivano molto alti, abbiamo ricostruito il tutto. La nuova zona rossa in Toscana anticipa di pochi giorni quella che sarebbe comunque scattata durante il fine settimana di Pasqua, quello del 3, 4 e 5 aprile, in base all'ultimo decreto del governo. Che cosa succederà quindi per le scuole? A questo punto è la disciplina della zona rossa, quindi tutto è chiuso, è la restrizione che ci porta a casa con qualche giorno di anticipo rispetto al fatto che le scuole sarebbero state chiuse da mercoledì, ma contemporaneamente questo è in una settimana in cui si sovrappone per tre giorni a quello che comunque sarebbe stato zona rossa, perché è quella decisa dal governo. Dal 6 di aprile vediamo come vanno i dati. Grazie. 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 Grazie.